Permettetemi che il sospetto che le uniche due regioni citate come casi negativi siano due regioni di centrodestra, quando il ministro poteva scegliere bene tra regioni che stavano messe peggio dell'Abruzzo e che fanno parte, sono guidate da compagni del suo partito, un po' ci viene. E questa è la replica piccata del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio alle dichiarazioni del ministro per il sud e per la coesione territoriale Giuseppe Provenzano che nel corso di un'audizione in Commissione Affari Europei del Senato ha accusato l'Abruzzo di essere l'ultimo in Italia per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, regione che appunto ne avrebbe utilizzato solo il 24%. Noi registriamo un ritardo per esempio nella regione Abruzzo dove il livello dei pagamenti che complessivamente ammonta al 31,7% è solo al 24%. A fare eco al ministro Provenzano c'è il Partito Democratico abruzzese che va all'attacco. Abbiamo un presidente romano al servizio di politiche romane e questa è la dura dichiarazione di Silvio Paolucci. Non si riesce a capire perché l'Abruzzo è ultima dappertutto, ultima sul FESR, di fatto ultima con l'1% in più della Sicilia sull'FSE e ultima sulla ZES perché nell'audizione di ieri Provenzano ha sottolineato purtroppo la maglia nera abruzzese sugli aspetti dell'utilizzo delle risorse europee per i pagamenti ma ha anche detto è l'ultima regione che ci ha dato l'istruttore a ZES. Ma di che cosa parla questa giunta? Non utilizza i soldi che ha, fa ovviamente le prove perché abbiamo un presidente romano al servizio della Meloni per politiche romane, non utilizza le risorse già messe a disposizione, ne chiede di nuove senza saperle utilizzare, fa un condono tombale per quanto riguarda alcune grandi imprese evidentemente. Ma Marsilio non ci sta e snocciola i numeri che riguardano la regione Abruzzo. Abbiamo raggiunto gli obiettivi di spesa assegnati dall'Europa e dall'Italia con giorni di anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre. Quando il ministro dice che la regione Abruzzo ha fatto il 24% dobbiamo ricordargli che invece sul FESR la regione Abruzzo ha raggiunto la percentuale quasi del 27%, 26,7%. Marsilio in più rilancia e attacca il ministro. Attendiamo ancora l'approvazione della zona economica speciale. Solo per colpa dei ritardi dell'Agenzia della coesione e del ministero e dei ministeri competenti l'Abruzzo sta attendendo ormai da un anno di vedersi approvato questo strumento fondamentale per il rilancio economico del territorio.